Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta su Cantare R&B, mi presento io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. In questa puntata rispondo a una domanda che mi viene fatta spesso. Ale, come capisco qual è la mia vera voce? Allora sembra essere molto molto difficile questa cosa di trovare la propria voce reale e credo che il fatto sia perché automaticamente quando hai dei cantanti di riferimento ascolti sempre i loro cd, i loro cd una volta forse, comunque ascolti sempre le loro canzoni, automaticamente l'orecchio ricordandosi del suono ti porta un po' a imitare i cantanti che ascolti. Tanto è vero che un'altra domanda che mi viene fatta è Ale, io so cantare però ho un problema, quando canto le varie canzoni tendo a cambiare la voce in base alla canzone che sto cantando e quindi ad imitare leggermente il cantante originale del pezzo e questo succede perché ascoltate un sacco i pezzi che dovete cantare, ascoltate le versioni originali e quindi l'orecchio e la memoria si ricordano della voce del cantante e vi porta un po' ad imitarlo. Primo suggerimento è, ok ascoltate la canzone originale ma quando sapete che dovete poi esibirvi cantando quella canzone, cercate di cantarla senza riferimenti, cantatela da voi. Una volta che sapete che cantate bene intonati, che sapete tutte le parole a memoria, cantate migliaia di volte la stessa canzone da voi. Il problema sorge quando la canzone originale l'avete sentita talmente tante volte, cioè fino al vomito e quello è un po' più difficile perché ormai il cervello se la ricorda, cioè ve la sentite proprio in testa. Quando suonavo col mio gruppo sia io che i musicisti ascoltavamo il pezzo, capivamo i cambi e tutto e poi la suonavamo e basta, non stavamo lì a riascoltare, no aspetta qui fa così, no aspetta qui fa colà. Dopo un po', spesse volte senza neanche accorgerci, sia le parti vocali che le parti strumentali si allontanavano dall'originale. Quindi, tutto ciò, torniamo alla domanda originale, Ale come trovo la mia voce? Bene, allora la vostra voce che canta è la vostra voce che parla, la stessa, ok? Quando voi state parlando, state parlando in voce di petto. In generale, la vostra voce che canta è la vostra voce che parla. È per quello che non sopporto vedere i cantanti che parlano in un modo che magari hanno una vocina così sottile e dopo cantano Cioè, spiegami un attimo. La tua voce dovrebbe corrispondere, poi ci puoi aggiungere tutte le cose che stiamo studiando o contrario. Per esempio, Britney Spears, voce media, normale. Però poi, nel cantato Oh baby, baby Se voi cantate con la vostra voce con cui parlate, non state imitando nessuno e il vostro timbro è unico al mondo. Quindi, come fate? Adesso vi faccio una domanda. Rispondete alla domanda a voce alta. Pronti? Come ti chiami? Ok. Se rispondessi io direi Alessia. Ascoltate bene. Questa è la mia voce normale. Come si chiama tua mamma? Ok. Ammettiamo che la mamma si chiami Maria. E' chiaro. E' abbastanza chiaro. Il gioco è quello di prendere una parola che vi viene spontanea. Può essere Ciao 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 Può essere il vostro nome. Può essere il nome della vostra sorella, fratello, papà, mamma, zio, cucino, cane, gatto, amico, maestro, professore. Qualsiasi cosa vogliate. Fate così. Prendete il nome, no? E stoppatelo. Ale Ale E E E E E Sia Alessia Cantatelo dritto e semplice come vi viene. Allo stesso modo potete provare a fare un'altra cosa che è molto istintiva. Ok? Proviamo a fare il verso di una scimmia. Uh 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 Ah 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 Provate. Ok. Pensate al suono che state emettendo. Per quanto mi riguarda Uh 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 Questa è una nota che possiamo usare nelle canzoni. O mi sbaglio. Uh 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 Ah ah Uh uh Fate per esempio il gatto. Miau 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 Facciamo per esempio un verso di esclamazione, di surprise. Wow Wow Questa non è la vostra voce? Ecco, io vi incoraggio a pensare a tutti i suoni che conoscete. Può essere la sirena dell'ambulanza, della macchina della polizia, può essere un gatto, una papera, una barca, un motorino, una macchina, il treno. Qualsiasi cosa che vi viene in mente e imitatela e ascoltate dentro di voi i suoni che ci sono. È molto molto probabile che se voi state cantando una canzone Uuuuh L'attacco non è tanto bello. Però se io provo a fare la scimmia, siccome non mi sto preoccupando di quello che sto facendo Uuuuh Uuh ah 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 Uuh ah 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 Vi viene molto più facile. Sperimentate Con i suoni che conoscete Vedrete che la vostra voce viene fuori E lasciate un po' perdere la musica che ascoltate sempre Ascoltate qualcosa di diverso da quello che state studiando Spero di esservi stata utile Vi ricordo di iscrivervi al canale Iscrivervi al canale Dai ragazzi così mi date una mano che faccio questo di lavoro E basta Bacioni